buongiorno a tutti ecco questo video lo voglio dedicare a chi non lo dovesse sapere vedete questo uovo è sporco di fece è stato appena riposto e va assolutamente pulito possibilmente disinfettato noi effettuiamo questa abberazione con delle semplici acqua ossigenata e in questo video vi farò vedere come fare ecco metteremo l'uovo sporco su un tovagliolo lo bagneremo con acqua ossigenata basterà un semplice tovagliolo alla cucina dopo averlo bagnato aspetteremo circa 20-30 secondi e poi passeremo a pulirlo sempre muovendo il tovagliolo stesso in quanto grazie all'aiuto dell'acqua ossigenata si pulirà molto facilmente l'acqua ossigenata avrà un doppio effetto quello sia di pulirlo e sia di disinfettarlo in quanto le feci all'esterno di un uovo causano quasi certamente la morte poi dell'embione molto spesso succede anche per questa motivazione quindi pulite in questo modo molto semplice e con delicatezza le uova non appena riposte li vedete sporchi ecco il risultato finale è questo l'uovo è pulito disinfettato e può essere messo poi sotto la canarina o a riposo insieme agli altri uovo fino a quando verrà incubato grazie a tutti nelle speranze di esservi sempre utili vi auguriamo una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti